La stagione sinfonica 2024 del Lente dei Carolis al Comunale di Sassari si apre con grande entusiasmo con una performance eccellente dell'orchestra e dal virtuosismo del solista Massimo IV. Tornare qui è molto bello perché c'è un clima fantastico, a parte il clima meteorologico, parlo del clima con l'orchestra, il clima con l'orchestra è straordinario, sono bravissimi. L'accoglienza calorosa del pubblico ha subito confermato la scelta di puntare su un musicista di fama mondiale. Durante la serata a quarta ha diretto l'orchestra e si è esibito nel celebre concerto per violino di Mozart e nelle affascinanti variazioni di Paganini, i palpiti, dimostrando una connessione profonda con l'ensemble. La performance ha incluso anche la Sinfonia numero 40 di Mozart che è stata eseguita con grande dinamismo e coesione, risaltando il livello di eccellenza dell'orchestra. Questo programma mi è molto caro, a partire dal concerto per violino e poi i palpiti di Paganini, un brano che ho fatto tantissime volte e io ho questa versione però che sta ridotta, perché sarebbe per un'orchestra molto più grande e poi la 40 di Mozart è una sinfonia che parla da sé. Massimo IV tornerà sul palco del Comunale il 4 maggio per dirigere l'orchestra del Lente in un programma dedicato alla musica di Tchaikovsky. Massimo IV tornerà sul palco del Comunale il 5 maggio per dirigere l'orchestra del Lente in un programma dedicato alla musica di Tchaikovsky. Grazie a tutti.